L'annuncio di Rama è ultimo come partecipanti al festival di Sanremo 2019 nella categoria Big ha subito scatenato il web. Dopo l'ufficialità arrivata nella puntata del 21 dicembre di San Remo Giovani, è subito cominciata una lotta senza quartiere tra le rispettive fan base, che hanno cominciato a parteggiare per i rispettivi beniammini. Ecco cosa è successo.